Esercito in Campo Marzo? Per il momento nemmeno l'ombra. Ancora non si vede dopo gli annunci roboanti del sindaco. Critico il consigliere di opposizione Claudio Cicero che in tempi non sospetti aveva avanzato la richiesta della presenza dell'esercito in Campo Marzo e solo gli episodi di cronaca di quest'estate hanno convinto anche il sindaco e chi le variati a cambiare idea. Prima delle ferie, il 1 agosto, il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza aveva inoltrato la richiesta a Roma che poi a fine mese aveva dato il suo parere favorevole con anche l'annuncio dell'arrivo dei lagunari. Ebbene, superate le scremaglie burocratiche dovute necessarie, dell'esercito in Campo Marzo ancora non si è vista traccia. Intanto nel parco, porta ad accesso alla città, continua in perterrito all'attività di spaccio con anche l'arrivo di gente da fuori provincia per comprare lo stupefacente, trasformando Campo Marzo in un vero e proprio mercato. Deciso a non perdere l'opportunità di avere la presenza dell'esercito in supporto alle forze dell'Ordine il consigliere ha mosso le sue pedine e così ha rispolverato una vecchia mozione portandola in commissione. In commissione tutti i commissari hanno votato favorevolmente alla mia mozione che appunto richiede di essere inseriti immediatamente nel progetto Strade Sicure e quindi è un rafforzativo. Un voto unanime che vuole spingere sull'acceleratore della sicurezza per poter vedere finalmente camionette militari in Campo Marzo. Spero che questo voto in commissione prima e il giorno 28 andrà in consiglio comunale sia un voto di sprone al ministero che se prima aveva una mera richiesta del sindaco adesso avrà una richiesta fatta dal consiglio comunale tutto.